Ah, McTominay sta ancora in campo, e chi l'aveva visto più? Ma io, proprio la zieliscata, zielinschi, zieliscomeni. Il primo tempo mi sono dimenticato di fare per registrare. Quindi tenevo tutto, era pure bello come l'avevo pensato, tutti gli sbadigli perché è presto al mattino. Signori, ci siamo cagati sotto, fatemelo dire tranquillamente, perché è Sposito che tira al volo, tira al volo parata di Caprile, importante, sono sventagliata di Colombo, Colombo sembra un Colombo, Caprile su Pezzella, è Sposito di nuovo sempre Caprile, Caprile è protagonista, va anche a vuoto, un colpo di destra di buongiorno. Questo ci siamo segnati su un calcio d'angolo, deviato. Caprile che fa quella parata bassa, dove la rispinge al centro, insomma così. Colombo che strozza il tiro, dove va Caprile? Ci siamo segnati, dove va Caprile? Perché esce fino al limite dell'aria, una volta buono, una volta Fazzini lo stava uccellando, parlando di Colombo, no? E mi sono segnati, buongiorno, mi ero in campo, Maluccio di Lorenzo, male raccomani, fa un colpo di testa che gliela dà proprio a loro, Spinazzola male, Kvara male, Guillemur lo vedo un po' in difficoltà, l'ho visto un po' in difficoltà, qualche fallo di troppo, Mc Dominic non trova la posizione, non la sta trovando così, Luca cos'è, ma dici qua, Politano che soffre deve fare il terzi, e anche se mezzo e mezzo. Signori, i like per la reaction calma, avrei potuto dormire qualche minuto in più, però voi lasciate i like, perché vi sveglio presto al mattino, e vediamo il secondo tempo. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere, allora... Dai, dai, vai Mc Dominic, vai, vai, vai Angissa, metti lo bene, io spero che Conte abbia urlato, perché non lo so se l'ho segnalato, perché non ho registrato, ma buono il giallo di Angissa, almeno quello l'abbiamo fermato, che Angio Rim si sta facendo tutto il campo. Ma vi ricordate almeno con il Cagliari noi, la palla su Lukaku, che lui sa lavandire? Ma anche quello riuscimmo a fare? Pezzella sembra... Teo Hernandez, Ghiassi, praticamente Cagliacor, tatticamente perfetto. Dai Politano, vieni, sembra la stessa cosa. Ma Gilmour, va bene, però io forse un po' la mancanza di Lobot che la sento, eh. McDominy, stai attento. A rete, mega per noi, don Raffaele. Bravo Lukaku! Vai Poli! Mamma mia. Pezzella, Teo Hernandez, la mette al centro. Aia, Caprile. Bravo McDominy! Vai Lukaku! Fallo, fallo di Poncho. Taccaglia con? Taccaglia con? Nessuno si fa vedere su questa rimessa, nessuno si muove. C'ha trattata, vado allo. Sveglia, io devo avere sonno, no voi. Lukaku, ciao. Eh no, ma è giusto, perché non ne ha strisciata a mezza. Se non ci sta, non ci sta. Vai, vediamo qualcosa di diverso. Spina è un argomento, perché non ci sta. Bravo di Lorenzo, di Simeone! Oh, un rigore! Un rigore! Un rigore! Un rigore! Ma tu ti rendi conto che a mo' che c'è sto un rigore, è asciutto Lukaku. Lo state pensando tutti. Amore mio! Amore mio! Questa cosa vi deve ricordare, ci sono le partite bloccate, che si sbloccano con i rigori. Quando è netto lo devi dare, e questo rifare il paio con le altre cose, brutto rigore. Però ho spiazzato, l'ha fatto andare. Bravo amore mio, bravo. Vai, questo era fuori gioco. Buono il lancio di Rachman. Vai, vai anch'essa. Simeone, Mactomine, maronna mio. Bravo Simeone, un'entrato voglioso, vispo. Gilmour, vai fine in fuori, maronna sa. Bravo Politano, vai, 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 vai. Va bene, va bene, strattonato, ma niente di che. Dai, gioco. Ah, la spinta non c'è? Vabbè, bravo qua. Bravo Simeone. Vai, Mactomine, vai. Simeone. Eh, c'è Cagliacon, come lo fa? Fa l'ammunizio. Eh, lo sapete. Va bene. Ci sta Neres per Kvara, perché Kvara non stava benissimo. Poi magari entrerà un bel mazzocchi per Politano. Vediamo. Usang, Usang. Signori, dai, ci vuole il gol di Neres per il pronostico e diceva 0-2, quindi l'altro pronostico diceva 4-1, per onestà. Però non ci volevo credere, e quindi ne ho fatta un'altra. No, se fanno quattro gol in otto minuti, mi arrendo, e chiamo un esorcista. Attenzione. Calma. Abbassa il ditino, perché sennò vai fuori. Ma, non so il quarto uomo a chi si riferisce, ma mazzocchi, come previsto, oramai il conte è un po' sgamato, eh? Che cos'è questa mini rissa? Bravo Neres. Uh, se ne è chiudo. Oh, questa era fallo? Fallo di Neres? Vabbè, si sono spesi tutta la mazzetta, come dice Fabio Versatile, nel primo tempo. Non ne hanno più, onestamente. Bravo, anch'issà. Bravissimo. Potevo battere un po' meglio in questo calcio d'angola. Occhio. Caprile, bravo Caprile. Bravo Simeone. Vai Neres. Uh, la brasilianità. Mamma mia. Mamma mia, Rocarmano. Mamma mia, Neres. Mamma mia, mamma mia. Ah, McTominion sta ancora in campo. E chi l'aveva visto? Ma io, proprio la, la, la zieliscata. Zielinski. Bravo Simeone. Voto alto per Simeone. Bravo Simeone. Bravo Olivera. Bravissimo Olivera. Sì. Mattias, voto alto. È finito. Signori, va bene così, diciamo, va bene così, Conte, ne dobbiamo parlare live, però ci possono stare 957 like. Fatele i precisi, così poi andiamo tutti tranquilli con l'analisi tattica. E tutti, non c'è, se tu devi andare a tutti, come che c'è, non c'è, non c'è, non c'è, Life is life, e tu metti a me, sospetti, prendi, prendi, non c'è, non c'è, quando tu parlerai, non c'è, 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 che non dorme mai, e tutto delle sciarie di una vita che va andare. Grazie a tutti